Roma porta maggiore di effettuare... Dopo l'anno del dragone e quello dell'acquario, quest'anno sarà quello delle rotonde, parola di sindaco. E così detto fatto, anche a Fano chi vorrà prendersi cura delle rotonde della città, come verde e abbellimento pubblico, lo potrà fare. Noi faremo due bandi, uno esce domani, abbiamo già deliberato in giunta, dove diamo la possibilità a imprenditori, a soggetti privati, di potersi gestire delle rotatorie in cambio di informazione pubblicitaria da parte dei soggetti che interverranno. E questo vale per tutte le rotatorie. Abbiamo escluso in questo bando quattro rotatorie, dove vorremmo dei progetti più mirati. Qui e su queste abbiamo fatto un concorso di idee e andremo a scegliere le migliori. In quel caso le potremmo realizzare direttamente noi, oppure anche questo, se c'è qualche privato interessato, può farlo direttamente. Oltre che le rotonde, quest'anno è l'anno del decoro pubblico, come detto in precedenza. E quindi, terminata la scuola di Lucrezia, l'attenzione degli architetti si sposterà verso altri siti cittadini molto importanti. In primisi i cerdini di Piazza Miani e la possibile comparsa della fontana del maestro Vangi, che metterebbe una sua opera a lustro di questo angolo della città. E poi Piazza Costanzi e Corso Cavour, nell'intento di prolungare la passeggiata del centro anche nel borgo cittadino dei Piatlet. Ma questa sarà un'altra scommessa dell'amministrazione, tutta da giocare, visto che i commercianti della zona hanno ben distintamente manifestato, in questi mesi la loro contrarietà ad una pedonalizzazione della strada o ad una eventuale ZTL.